La Procura di Arezzo ha dato il via libera alla riapertura al traffico leggero del viadotto del Puleto sulla E45 tra Canile e Val Savignone, provincia di Arezzo, chiuso dal 16 gennaio per rischio di collasso. L'ok è arrivato dopo il sopralluogo in seguito ai lavori eseguiti dall'ANAS su richiesta della Procura stessa, una vicenda seguita da vicino anche dalla regione toscana. Circa un mese di sofferenza per quanto riguarda le realtà locali che troveranno un parziale ristoro da una riapertura seppur soltanto al traffico leggero. La speranza è che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche attraverso i lavori che inizieranno sul viadotto del Puleto, si possa andare ad una riapertura totale consentendo quindi il traffico anche a quello pesante, perché sappiamo che l'Ai45 è evocata soprattutto per questo tipo di traffico. Novità anche sul fronte della riapertura della Tiberina Trebisse, che è stata al centro di un tavolo nazionale con il Ministero dei Trasporti. Il Ministero ha autorizzato ANAS a firmare la convenzione con il Comune di Piave Santo Stefano, che è il proprietario attuale della Trebisse, per poter fare gli interventi di riapertura. E poi va avanti l'iter per quanto riguarda la rinazionalizzazione, quindi il ritorno in competenza permanente dell'ANAS anche di questa strada, così come avevamo chiesto al tavolo nazionale quando abbiamo incontrato il Ministro, perché questa è veramente l'unica alternativa in caso di situazioni di crisi come quella che si è verificata all'attuale Ai45. Intanto, dopo l'incontro del Presidente Rossi e dell'Assessore Ceccarelli a Piave Santo Stefano con i rappresentanti dei territori, i tecnici della Regione hanno stabilito con i sindaci e i rappresentanti delle categorie economiche le modalità di calcolo per valutare i danni subiti dal tessuto economico del territorio dopo la chiusura del viadotto per poter intervenire.